Nome Don Fulvio Cognome Agazzi Peso 91 Altezza 1,68 Età 44 Voto in religione Cioè voto che ho preso io quando ero piccolino? Difficile ricordare solo tanti anni, eh? Conoscendo la mia suprema intelligenza direi ottimo Vino santo o birra? Birra, sì, per... Attratto dalle donne? Sempre moderatamente Da quanti anni è che è prete? 12 Voto esami maturità? 48 su 60 Numero di scarpe? 43 Cartone preferito? Dunque, dei recenti, qualche volta ho visto i Simpsons, non mi dispiacciono Di quando ero piccolino io, diciamo i robot, sì, UFO, robot, Goldrake, G, robot d'acciaio, quella gente lì Che voi non mi ricordate neanche probabilmente, comunque me lo ricordo io Cosa ne pensa di Dario? Dario, Dario non sempre efficiente, disponibile e generoso Ha mai praticato uno sport? Tanti anni fa, quando ero giovane e magro, giocavo a tennis Cosa ne pensa di Casnigo? È un paese un po' di matti, ma molto simpatico e disponibile Quando è che sarà costretto ad andarsene? Le mancheremo? Quando? Molto probabilmente, agosto 2013, leverò le ancore Non è certo ovviamente Penso che mancherete, sì, però lo saprò meglio quando sarò nella tua via Ti consideri affascinante? Non credo Canta l'inno Devo cantarlo adesso, ho una domanda se canto l'inno in maniera... Adesso, pettami eh Allora, suggerite, suggerite, suggerite Mi ricordo bene la parte di quello che è il bagno No, sono qui nel bagno e non c'è voglia di uscire Canto un boleo stonato Ecco, mi ricordo questa parte qua Però non mi ricordo le parole neanche la mia parte principale La mia parte solamente due volte, perdonatemi Alla fine del creverò saprò Faccia felice Triste Devo pensare a Michele per essere triste Adesso mi concentro, guardo Michele in faccia e mi viene la faccia triste Arrabbiata Mentre invece il podcast bisogna guardarla a Miloni Sta sgridando qualcuno Hai finito di rompere il p***o Saluti tutti i ragazzi del cre... Buona giornata e buon lavoro